Uomini e donne, nuove anticipazioni, Alice da Federico, Desdemona se ne va. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che avremo modo di vedere nel corso del mese di marzo in tv, rivelano che ci sarà spazio per la fatidica e ormai attessissima scelta finale di Federico Nicotera. A distanza di un po' di mesi dall'inizio del suo percorso nello studio del talk show di Maria De Filippi. Per il giovane tronista è giunto il momento di coronare il suo sogno d'amore e mettere così la parola fine a questa avventura. Spazio anche alle vicende dei protagonisti del trono over, al centro dell'attenzione ci sarà la dama Desdemona, la quale si ritroverà a fare i conti con delle segnalazioni. Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che a tenere banco nel corso delle nuove puntate del mese di marzo, sarà la scelta finale del tronista Federico. Per lui, infatti, arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5 e svelare così il nome della persona con la quale intende costruire un futuro lontano dai riflettori mediatici del talk show. Alice e Carola sono le due pretendenti giunte al rush finale di questa avventura, gli spoli riportati da Lorenzo Pugnaloni rivelano che entrambe le ragazze hanno vissuto questo momento con grande tensione. Alla fine, però, ad avere la meglio è stata Carola, è lei la scelta, la ragazza con la quale Federico intende costruire un futuro fuori dallo studio di Uomini e Donne. I due hanno così coronato il loro sogno d'amore insieme, pronti a viversi fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che Alice non ha potuto nascondere la sua amarezza per l'esito finale di questa scelta. La ragazza si è ritrovata a fare i conti con il rifiuto di Federico e, con la voce rotta dalle lacrime e dall'emozione. Ha ammesso che ormai si aspettava questo epilogo. Si chiude così il percorso del tronista romano ma, al centro dell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Ci sono state anche le vicende dei protagonisti del trono over. Le anticipazioni rivelano che, per Desdemona è arrivato il momento di fare i conti con delle segnalazioni che l'hanno portata ad abbandonare la trasmissione. Gran parte della durata del programma è stata incentrata proprio su Desdemona, dopo essere stata messa in discussione. La dama ha scelto di andare via e quindi mollare la presa. Spazio anche alle vicende di Aurora che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, si ritroverà messa in discussione da Gianni e Armando, i due saranno molto duri nei confronti della dama. Complici le sue dichiarazioni poco carine rilasciate in passato contro la trasmissione di Maria De Filippi. Grazie. 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 Grazie.